I numeri sono questi, quindi ce li teniamo stretti e vogliamo provare a continuare questa striscia positiva. Alessandro Sansonna non ha dubbi, nel terzo posto del Barletta 1922 c'è un elemento chiave, la continuità. Di risultati con l'ultimo KO datato 7 ottobre al Manzichi Apulin contro i Salentini di Pasquale De Candia che seguiva l'altra sconfitta sin cui incassata nel campionato di eccellenza, sempre in casa contro la Forti Saltamura su rigore. Dal Casarano a Casarano, un girone senza sconfitte, 15 partite muovendo la classifica settimana per settimana. Nonostante metà campionato di fila, senza perdere nemmeno una partita, però il primo posto dista 10 punti dal Barletta e il secondo, occupato dal Brindisi, 4 lunghezze. I numeri parlano chiaro, i punti sono 31 nelle ultime 15 giornate con una media di poco superiore ai 2 a settimana, le vittorie 8, i pareggi 7. Il segno X, soprattutto lontano dal Manzichi Apulin, ha spesso limitato le ambizioni dei biancorossi che hanno comunque realizzato 20 reti incassandone 7. Grandi meriti allora a un reparto difensivo guidato da Sansonna, autore di parate decisive dal dischetto e sua azione, come successo al Capozza, sulla zuccata di diritto. C'è poco da spiegare, è stata una parata istintiva e sono contento che abbia contribuito a questo risultato positivo. Entrambe le squadre hanno avuto anche la possibilità di vincere, in certe partite quando non si riescono a vincere non si devono neanche perdere, quindi ci teniamo questo punto. Il bottino del Barletta, che non conosce sconfitte da un girone, è quasi equamente spalmato tra casa e trasferta. Al Manzi sono arrivati 16 punti su 6 partite, con 11 reti segnate e solo una al passivo. Lontano dalla città della disfida, invece, i punti sono 15 su 9 incontri, con 9 gol realizzati e 6 subiti. Con il Casarano lontano, nel mirino a 10 turni dal termine della regular season, c'è il secondo posto. L'inseguimento ripartirà domenica al Manzi, con l'arrivo di una molfetta sportiva rinnovata negli uomini e nel morale. Un avversario difficile, che ha ormai creato una squadra, un gruppo anch'esso di categoria, lo ha dimostrato nelle ultime partite facendo punti anche con avversari ostici, quindi guai a sottovalutarlo, dobbiamo prendere l'intera posta in palio e quindi ce la metteremo tutta.